A Pescara il progetto denominato Azalea entra nel vivo e crea occupazione per 140 persone svantaggiate residenti in città e nell'area della montagna pescarese e in quella vessina. Il progetto, azioni di accompagnamento a lavoro e inclusione attiva, è stato promosso dal comune insieme ad alcuni partner nei mesi scorsi ed è stato finanziato dalla regione Abruzzo con oltre 1 milione e 200 mila euro del Fondo Sociale Europeo PLAS 2021-2027. Ricordiamo che sono 140 i tirocini che verranno svolti, di cui 100 tirocini di inclusione durata 12 mesi, sono 600 euro mensili e quelli 40 invece sono per le persone psichiatrici che avranno invece 349 euro. Si tratta di risorse importanti perché andremo a dare un concreto aiuto, infatti ricordiamoci che questi tirocini consentiranno ai beneficiari di svolgere dei servizi all'interno delle varie società e delle aziende dove consentiranno anche un supporto importante per entrare nel mondo del lavoro. I requisiti per quelli che hanno potuto partecipare sono innanzitutto uno stato di Unisei sotto il 9360, avere uno stato di disoccupazione, avere una situazione di disagio sociale ed essere preso in carico all'interno dei servizi sociali, cioè sono tutti quei requisiti che di norma stabiliscono queste persone che possono accedere a questi servizi. Ovviamente le domande sono state tante, questo ci fa capire che l'avviso pubblico dovrà essere ripresentato, finanziato e molto probabilmente anche in maniera superiore. Dobbiamo essere bravi poi a dare la giusta continuità una volta finita queste borse lavoro, quindi quello che si chiede a coloro che sono i beneficiari di questo avviso pubblico è il massimo impegno perché in questi mesi, quasi un anno mi pare di progetto, loro hanno la possibilità di dimostrare la loro valenza dal punto di vista lavorativo e sociale per poi essere realmente integrati a livello sociale e lavorativo.